Luca Basic, domenica in campo dal primo minuto contro Trento, sabato c'è Siena, che partita ti aspetti? Sarà sicuramente difficile perché comunque nel compagnolo italiano tutte le squadre sono fortissime, è una squadra che ha tanti giocatori di qualità, che conosco bene come Petric con chi ho giocato, c'è anche Van Garderen e Pinalli per citare solo loro, quindi sarà una battaglia dura e daremo il massimo. Un Siena che in queste prime partite pur giocando una buona pallavolo ha fatto fatica e la classifica sicuramente non è quella veritiera per una squadra come quella. Sì esatto, hanno affrontato delle squadre comunque molto forti e comunque hanno dato fastidio a tutte le squadre che hanno incontrato, quindi secondo me è una bella squadra, giocatori di qualità e farà bene quest'anno. Come sta andando questa tua permanenza a Piacenza? Bene, io sono contento, come dico sempre cerco di dare sempre il massimo, di aiutare i compagni, sono contento, mi fa anche piacere tanto che c'era tanto pubblico le due partite che abbiamo giocato in casa e questo ci dà tanto carica e speriamo che sia così anche dopo. Come sta crescendo questa Gas e Isle Blue Energy Volley Piacenza? Bene, stiamo comunque sempre in situazioni di emergenza perché abbiamo sempre un po' di infortuni, però piano piano stiamo trovando un ritmo e dobbiamo continuare così. Grazie. Grazie.